Ciao a tutti, oggi giovedì santo, giorno di grazia per la Chiesa e per tutti i credenti, giornata sacerdotale e giorno dell'istituzione dell'Eucharistia. Per me lo è ancora di più in quanto oggi ricorre il mio quattordicesimo anniversario di ordinazione sacerdotale e allora desidero innanzitutto elevare un inno di lode e di ringraziamento alla Santissima Trinità per questo dono immenso che la sola ragione umana non può comprendere. Una lode a Maria, Mamma Nostra Celeste, Madre dei Sacerdoti, Madre della Chiesa, Madre della Redenzione, per aver custodito la mia vocazione e protetto il mio sacerdotio giorno dopo giorno. Un ringraziamento alla Chiesa, Madre, Maestra, Sposa, per avermi voluto e consacrato sacerdote. Nel mio cuore albergano tanti sentimenti di gratitudine e tanti ricordi belli in questi anni. Ne voglio proporre a voi uno. All'età di circa diciotto anni mi trovavo in una chiesa della diocesi di Catanzaro Squillace, Santa Maria del Carmelo Insiano, e avevo una gamba ingessata perché avevo fatto il primo di due interventi di allungamento dei tendini a motivo della mia paresi spastica alle gambe. In quel pomeriggio, nell'incontro degli aderenti del movimento apostolico, i miei occhi a un certo punto hanno incrociato altri due occhi. Gli occhi di una donna, umile, semplice, ricca di fede, testimone amorevole e instancabile del Vangelo di Gesù, sempre obbediente agli insegnamenti della chiesa. In quel momento i miei occhi erano impauriti perché erano un momento di fragilità. Mi chiedevo come posso essere sacerdote nelle mie condizioni. E allora quegli occhi pieni di amore mi guardarono e in quel momento la carezza di quella donna mi rincuorò e le sue parole dette a tutti e percepite anche per me mi diedero pace. O voi tutti che siete affaticati, oppressi, venite a me e troverete ristoro. La messa in molte e gli operai sono pochi. Vieni ti farò pescatore di uomini. E allora rinnovai ancora una volta il mio sì alla vocazione, il mio sì a Gesù. E oggi sono 14 anni che sono sacerdote. La vita sacerdotale non è facile, non è rose e fiori. È una continua salita verso il calvario. È un saper portare la croce di Gesù. E in questa croce ci sono tutte le croci dei fedeli che il Signore ha messo sotto la tua custodia e sotto la tua cura. Di tutte le persone che hai incontrato lungo il tuo ministero in questi anni. Ma essere sacerdote è il dono più grande, più bello e più prezioso che il Signore potesse concedermi. Sono un santo sacerdote? Ancora no, purtroppo. La santità è un cammino quotidiano di conversione. Desidero sì la santità perché sempre ecco quelle parole di esortazione della ispiratrice del movimento apostolico, la Signora Maria. Il sacerdote santo rende il popolo di Dio santo. E queste parole non le dimenticherò mai, come non dimenticherò mai il suo sì al Signore che ha partorito anche il mio sì. E ringrazio Gesù perché attraverso le sue parole di esortazione e attraverso le catechesi dei sacerdoti io ho potuto conoscere il vero Vangelo di Gesù, il Vangelo della Chiesa. È bello consacrarsi al Signore. Se qualche giovane che sta sentendo queste mie parole avverte nel cuore questo desiderio, dica sì a Gesù senza tentennamenti, si confronti con il suo Padre spirituale e non abbia paura di rispondere sì al Signore perché il Signore che ti ha chiamato ti spianerà la strada e sarà sempre con te tutti i giorni della tua vita.